Andrei in nascimento di nuovo al Palatrento, una bella sorpresa per Pasqua, rispetto a quando giocavi qui però vedo che hai qualcosa in più. Sì, sì, sono orgoglioso di tornare qua a Trento e di vedere una squadra scettacolare che è diventata veramente fenomenale. Io sono venuto qua con il mio figlio che adesso comincia anche a giocare e da vedere i tifosi sono molto contento. Trento ti è rimasta nel cuore. Sì, sì, sì. Trento è stata una bella stagione qua. Per me come tifosi e tutti quanti mi hanno un rapporto, tutto un rapporto benissimo. Comunque è stata bellissima. Che ricordi hai di quella stagione? Di quelle due stagioni a Trento? Se mi ricordo. Quali ricordi hai? Ah, io tutto, no? Perché è una bellissima squadra. Sono orgoglioso di fare parte di quel lavoro che oggi ha fatto tantissimi successi. e allora è tutto, tutto benissimo. E da lontano la continui a seguire a Trento? Sì, sì, anche da lontano. Come tifosi perché sono stato qua felice. Allora faccio tifo sempre per Trento. E tu adesso cosa fai? Io gioco ancora. In Brasile mi alleno. La prossima stagione voglio ancora giocare. Ho giocato l'anno scorso in Giappone. E mi preparo per la prossima stagione. Ti aspettiamo di nuovo a Trento. Ah, grazie. Auguri a tutti. Grazie.